sacchetto che ha fatto il firma? un sacchetto pieno un sacco di merda un sacco di merda ecco, guardalo oh, non ce ne stanno schiavo Patrizio dai ecco perché è diventato così lui stava con Patrizio ahahah guardate il maestro ma fai un culo ho comprato la Patrizio nuova e ha dei sequelle con pochi di nuovo e compro i testi scopi andiamo tocca a fare pure lo scavo i tubi qua eh